Buongiorno, sono Maria Gabriella Ceravolo, insegno medicina fisica e riabilitativa presso l'Università Politecnica delle Marche e sono dall'anno scorso presidente del corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie della Facoltà di Medicina. Con me oggi è presente la dottoressa Patrizia Lopez, che è il direttore incaricato per le attività didattiche professionalizzanti presso il corso di laurea magistrale. Come forse già saprete questo corso di laurea magistrale è stato riavviato nel 2021-22, quindi durante l'anno accademico in corso, dopo essere stato per tanto tempo sospeso, era già stato presente presso l'Università Politecnica delle Marche nel 2014-2015-2016 e anche in passato. Quindi quello che io vorrei condividere con voi come una sorta di filo di ragionamento, ovviamente disponibile poi a ricevere le vostre domande, a chiarire i vostri dubbi assieme alla dottoressa Lopez, è cercare di capire quali possano essere le motivazioni per iscriversi a un corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Qualcuno di voi saprà che questa non è una laurea magistrale professionalizzante, anche se rappresenta l'ideale completamento del percorso di studi dei laureati della classe delle professioni sanitarie della riabilitazione. Il contenuto di conoscenze, di competenze, di capacità di applicazione, di conoscenze e competenze, di competenze trasversali soprattutto, è rappresentato dagli aspetti, diciamo è esemplificato dagli aspetti della formazione, della ricerca e alcuni aspetti del management. Come vedete qui c'è una declinazione che è quella ufficiale prevista dalla normativa e ripresa anche dal nostro corso di laurea nella sua presentazione. Quindi che cosa forma questa laurea magistrale? Forma dei professionisti che sono dei potenziali dirigenti preparati alla direzione e gestione delle risorse umane e materiali basati sulla conoscenza e capacità di gestire la conoscenza dei bisogni organizzativi, capacità di trasferire le competenze, quindi una particolare competenza nella formazione, nell'educazione, nell'aggiornamento dei propri colleghi e competenze anche di natura metodologica per non solo aggiornarsi e quindi comprendere il contenuto della letteratura scientifica pertinente, la riabilitazione e non solo, ma anche il dominio di quegli strumenti di metodologia della ricerca che consentono di sviluppare in maniera autonoma delle ipotesi di ricerca e quindi validarle. Gli sbocchi occupazionali naturali che sono consentiti al laureato magistrale sono per esempio proprio la docenza presso i corsi di laurea delle professioni sanitarie. Il titolo di laurea magistrale è richiesto per poter fare domanda e insegnare presso i corsi di laurea delle professioni sanitarie. Con la laurea magistrale si può accedere ai bandi per l'assegnazione di contratti come assegnista di ricerca presso atenei universitari e si può completare la propria formazione seguendo quello che è una carriera accademica ovvero accedendo a dei corsi di dottorato. Inoltre la laurea magistrale consente di arricchire il proprio curriculum vitae per tutte quelle possibili esigenze della carriera che permettono appunto di maturare dei titoli e accedere a livelli superiori per quanto riguarda le professioni sanitarie della riabilitazione presso le strutture pubbliche e private convenzionate. La condizione occupazionale è particolarmente favorevole per i laureati magistrali della classe. Coloro che hanno acquisito questo titolo non sono tantissimi se pensate a quanti laureati triennali ci sono in Italia, lo vedremo tra poco, in confronto i laureati magistrali sono solo una piccola percentuale quindi diciamo che si tratta di una condizione estremamente appetibile e non è quindi difficile capire come i laureati magistrali siano molto soddisfatti del percorso di studi realizzato e grazie a questo, grazie a questo titolo dichiarino di aver migliorato le competenze acquisite e anche di aver migliorato le proprie condizioni di lavoro e la gratificazione nel posto di lavoro. Detto questo perché iscriversi presso l'Università Politecnica delle Marche? Intanto presso quest'ateneo sono già attivi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione, alcuni da molto tempo, l'educazione professionale, il fisioterapista, la logopedista dal 2004, il terapista del 2014 scusate, il terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva dal 2021-22 presso la sede di Macerata. Quindi ci sono di fatto tanti laureati triennali che escono dall'ateneo, dall'Università Politecnica delle Marche, dalle diverse sedi in cui i corsi di laurea triennale sono attivi e conoscono già la rete formativa, molti di loro, credo grandissima parte di loro, lavora presso la regione Marche e può trovare magari più agevole iscriversi in un corso di laurea magistrale nella stessa regione per ovvi motivi pratici, anche semplicemente di spostamento. Ma non è solo questo evidentemente il motivo che dovrebbe spingervi a iscrivervi al corso di laurea magistrale attivo presso la sede di Pesaro, ma anche il fatto che appunto tutti coloro che sono già iscritti, sono già stati iscritti presso i corsi di laurea triennale hanno avuto modo di confrontarsi con i professionisti della regione che hanno operato e operano come guide di tirocinio e soprattutto sanno che il nostro Ateneo ha delle convenzioni attive con tutte le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate che insistono nel settore della riabilitazione. Inoltre al fine di raggiungere gli obiettivi formativi nell'ambito della ricerca e della formazione in particolare questo corso di laurea si è dotato di relazioni particolarmente intense con le direzioni aziendali e con gli uffici formazione delle diverse strutture sanitarie nonché con i docenti universitari sia presso l'Ateneo Anconetano, con l'Ateneo Politecnica delle Marche, sia presso l'Ateneo di Urbino con cui c'è una convenzione per la docenza presso il corso di laurea di Pesaro proprio per favorire gli studenti nel raggiungimento degli obiettivi della ricerca. In generale la disponibilità di posti per la formazione magistrale, per la formazione post laurea è cresciuta sul territorio nazionale, in realtà però non c'è un numero di posti sufficienti a soddisfare tutte le richieste. Allora erano stimati fino all'anno scorso un poco più di 120 mila laureati triennali tra tutti i laureati della classe della riabilitazione, quindi fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, eccetera eccetera e a disposizione per tutti questi laureati in realtà il numero di posti per la riabilitazione era estremamente esigo e lo vedete qui colorato in rosa, poco più di 600 posti per potenziali 120 mila richiedenti. Sono aumentate molto di più per esempio le posizioni, diciamo il numero dei posti per infermieri e ostetriche di quanto non sia aumentato però è anch'esso aumentato il numero dei posti per i laureati triennali delle classi della riabilitazione. E se andiamo a guardare quello che offre il panorama nazionale diciamo nelle regioni limitrofe alla regione Marche per i laureati triennali che risiedono nella nostra regione, ecco vedete che qui c'è una indicazione di massima dei posti presso l'Università di Ferrara, presso Firenze, Pisa, Siena, Perugia, presso Roma e l'Aquila. In Ancona adesso sono disponibili 30 posti che non sono pochi e se guardate quello che è il rapporto tra numero dei richiedenti e numero di posti diciamo che c'è una media di tre richieste per ogni posto disponibile in un corso di laurea magistrale. La progettazione del corso di laurea magistrale presso l'Università Politecnica delle Marche è stata effettuata con l'ascolto, la consultazione dei laureati della classe tramite in realtà i loro rappresentanti all'interno dell'ordine di Ancona, Scolipiceno, Fermo e Macerata. Quindi prima dell'avvio di questo corso di laurea nel 2020 è stata effettuata una consultazione proprio per comprendere assieme ai professionisti stessi quali potessero essere le modalità di struttura del corso più inerenti, più in linea con le richieste del mercato e con le richieste dei professionisti stessi e hanno partecipato a questa consultazione i colleghi che potete leggere qui in diapositiva ognuno per una professione sanitaria diversa. Come ci si scrive? C'è un concorso nazionale che si svolge nella stessa data in tutta Italia in quegli atenei dove il corso di laurea è attivo per cui coloro che vogliono concorrere per il corso di laurea della Facoltà di Medicina dell'Università Politecnica delle Marche si iscrivono e sostengono l'esame presso la sede di Ancona nella stessa data in cui tutti gli altri lo sostengono nelle altre sedi. Per poter essere ammessi occorre evidentemente avere una laurea triennale in una di queste professioni, podologo, fisioterapia, logodia, ortottista, terapista della neuropsicomotricità età evolutiva, tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica psicosociale, terapista occupazionale ed educatore professionale. Sono ammessi anche i titoli equipollenti ovvero tutti quelli acquisiti prima dell'istituzione della laurea così come è ordinata adesso secondo la nuova normativa. Il corso di laurea, l'accesso al numero programmato avete già visto che sono previsti 30 posti, vi dico solo che l'anno scorso per quei 30 posti hanno concorso circa 110 candidati quindi è stato mantenuto quello che è un po' il rapporto di circa 3,3 domande per ogni posto. I contenuti della formazione sono questi distribuiti nel primo e nel secondo anno, ci sono quattro aree fondamentali a cui afferiscono i diversi insegnamenti, c'è l'area della ricerca, c'è l'area del management e l'area formativa e poi c'è un'area che abbiamo chiamato area professionale o professionalizzante che è quella all'interno della quale vengono inclusi, sono inclusi quegli insegnamenti che mirano a approfondire competenze che riguardano la specifica professione dei laureati della classe e qui vedete una panoramica abbastanza sintetica degli obiettivi generali che ci si prefigge di far acquisire e quindi dei risultati di apprendimento inerenti le diverse aree, quindi dare la possibilità agli studenti di apprendere i metodi della statistica, dell'epidemiologia, di metodologia della ricerca, le basi fisiologiche del recupero funzionale, principi e metodi di economia e programmazione sanitaria, modelli pedagogici e di apprendimento degli adulti, metodologie tutoriali e poi al secondo anno, sempre per le stesse quattro aree, vedete che i temi affrontati nel primo anno vengono espansi e resi un po' più approfonditi e più in dettaglio con analisi di studi della ricerca qualitativa e le implicazioni per la pratica riabilitativa, l'approfondimento dei progressi clinici organizzativi nell'ambito delle neuroscienze e della riabilitazione, le strategie di direzione e gestione delle risorse umane, dei servizi, la progettazione degli strumenti di integrazione e infine per l'area formativa un approfondimento sulla progettazione e gestione dei sistemi formativi, metodologie didattiche, gestione dei gruppi di formazione e così via. Il corso è organizzato in due anni, in questi due anni ci sono dieci corsi integrati, dieci corsi integrati significa dieci esami da sostenere, più attività seminariali di laboratorio e di tirocinio, sono 60 crediti formativi all'anno disponibili, del totale di 120 crediti, 36 sono di attività di tirocinio e tre attività di laboratorio. Questa è la distribuzione dei vari crediti formativi nelle tre aree principali, ricerca, formazione e management e dell'area professionale che però è un'area trasversale alle altre tre aree più rilevanti. E qui la distribuzione degli insegnamenti veri e propri al primo anno, vedete che ci sono dei moduli didattici quali informatica, lingua inglese, psicologia generale, pedagogia didattica e pedagogia speciale, psicologia dello sviluppo, questi i primi due informatica e lingua inglese sono competenze trasversali, poi c'è un corso integrato che è orientato prevalentemente a far acquisire competenze nella formazione, competenze indicatori clinici e strumentali di neuroplasticità e fisiologia del recupero, competenze quindi professionali avanzate, c'è un corso integrato di management che include il diritto del lavoro, l'economia applicata e le istituzioni di diritto pubblico e un corso integrato di metodologia della ricerca con statistica, metodologia epidemiologica e sistemi di elaborazione delle informazioni. Qui vedete i crediti del corso integrato ovvero dell'esame che deve essere sostenuto al termine delle lezioni del primo e del secondo semestre e qui infine i 18 crediti di tirocinio da svolgere presso la rete regionale. Il tirocinio consiste nell'acquisizione di quelle conoscenze e competenze che poi si esplicitano nella redazione di un progetto o nell'area della ricerca o nell'area della formazione o nell'area del management in modo tale che nei due anni di corso ogni studente abbia redatto tutti e tre i progetti pertinenti le tre aree. E qui abbiamo l'organizzazione del secondo anno, vedete che i corsi integrati sono di scienze umane, psicologia clinica dinamica, glottologia linguistica, metodologie innovative in ambito riabilitativo che attiene prevalentemente l'area professionale avanzata, le metodologie del lavoro in team che attiene il management, le scienze della prevenzione e servizi sanitari, anche qui con un occhio prevalentemente al management nell'area professionale, la metodologia della ricerca. 18 crediti di tirocinio anche al secondo anno. Questa diapositiva dove vedete probabilmente solo delle macchie di colore serve un po' a rappresentare come abbiamo distribuito la didattica frontale durante il primo semestre del primo anno dove vedete il colore sapete che lì c'è stato un cluster di lezioni, il che vuol dire che abbiamo cercato il più possibile di agevolare gli studenti lavoratori che sono la stragrande maggioranza degli iscritti a questo corso, cercando di concentrare le lezioni nella seconda parte della settimana tutte le volte che è stato possibile, quindi con un impegno del giovedì e venerdì nella gran parte dei casi il sabato mattina le lezioni si sono svolte online, in streaming piuttosto che in presenza, ma di questo sicuramente parleremo poi durante la discussione, immagino che sarà una delle domande che ci rivolgerete. La sede è a Pesaro, la rete formativa è, ripeto, la stessa rete formativa attiva per i corsi di laurea triennale, quindi include di fatto tutte le strutture sanitarie con impatto, con impegno riabilitativo, quindi tutte le aree vaste dell'Asuro, se si può ancora chiamare così, le strutture riabilitative del gruppo COS del Bignamini, altre strutture riabilitative convenzionate come il centro Montessori, l'ASP Paolo Ricci, la Lega del Filo d'Oro e una serie di centri privati. Stiamo convenzionando delle strutture fuori regione perché, diciamo, limitatamente alle lauree magistrali questa deroga dal protocollo d'intesa regione-università è possibile e la convenzione con strutture fuori regione è stata, diciamo, condivisa con il consiglio di corso di studi e selezionata ad hoc proprio per agevolare quegli iscritti che risiedono fuori regione e che hanno l'opportunità di svolgere i loro progetti di tirocinio più vicino casa. Io concludo questa carrellata e passerò adesso la parola alla dottoressa Lopez. Vi ricordo solo che potete acquisire informazioni di dettaglio sull'organizzazione del corso cliccando sul sito www.medicinaunivpm.it vi compare questa immagine. Se poi cliccate su didattica e offerta formativa venite rindirizzati a questa lista di corsi di laurea dove trovate anche le scienze riabilitative delle professioni sanitarie e una volta cliccato trovate qui tutte le informazioni tra cui la presentazione, i recapiti utili, gli obiettivi formativi, i verbali dei consigli di corsi di studio, il piano di studi eccetera eccetera. Inoltre mi raccomando che a tutti coloro che sono interessati di monitorare i bandi di ammissione e corsi di studio della facoltà di medicina consultando regolarmente il sito dell'università e seguire le iniziative sul sito orientaunivpm.it dove verrà pubblicata anche la registrazione di questo webinar. Io tolgo al momento quindi la condivisione del mio schermo e passo senz'altro la parola alla dottoressa Patrizia Lopez per tutto quello che può essere un'informazione molto più precisa. La dottoressa Lopez vive questo corso di laurea intensamente ogni giorno ormai da quasi un anno. Prego Patrizia. Buongiorno a tutti grazie professoressa per le belle parole. Allora io sono quella che poi si occupa fattivamente dell'organizzazione dell'orario, della razionalizzazione dei tempi e delle aule ma anche di tutte le attività formative con la nomina delle guide di tirocinio. Ho portato con mano in questo primo anno di mia prima esperienza in questo corso di laurea magistrale gli studenti a scegliere i propri progetti sia di ricerca che di management sia di formazione e quindi io ritengo anche che ci sia da parte nostra una grande cura nel seguire gli studenti. Abbiamo come diceva la professoressa in attivo stiamo organizzando la convenzione con sedi extra regione e questo è stato dato la possibilità dalla nostra università proprio per le lauree magistrali in cui c'è una grande percentuale di studenti fuori fuori regione. Quindi convenzioniamo in questo momento parte la convenzione con l'Asle for Lee Romagna e quindi non vi dovete spaventare riguardo al tirocinio che non è un tirocinio curricolare del triennio in cui viene richiesta una presenza costante giornaliera ma sono dei progetti che vengono sviluppati quindi il livello è totalmente diverso di organizzazione. Il tempo è un tempo gestito in modo diverso. Per quanto riguarda l'orario per il primo anno l'orario si articola da dicembre perché c'è bisogno dei tempi che sono dei tempi fattivi riguardo alla risposta del concorso e quindi la lista degli ammessi e quindi c'è bisogno ecco dalla prima settimana di dicembre. Come diceva giustamente la professoressa Ceravolo abbiamo cercato di organizzare le lezioni con degli slot che impegnassero il fine settimana ma anche un inizio settimana e perché magari ci sono degli studenti che sono impegnati solo il fine settimana quindi abbiamo cercato di rendere il più possibile ritagliare sulla richiesta fattiva degli studenti che abbiamo in classe e chiaramente provengono da varie professioni con delle richieste molto diverse c'è chi può soffrire del 150 ore e chi è libero professionista e non ha potuto soffrire 150 ore quindi con una etereogenità di richiesta è complessa. Aggiungo che come ogni anno si tratta di un concorso di un esame come sempre che prevede la risposta a quesiti a scelta multipla su argomenti di teorie pratica pertinente alle professioni sanitarie, cultura generale e ragionamento logico, regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie quindi le norme, le leggi che regolamentano la professione, cultura scientifico matematica, statistica, informatica inglese e scienze umane e sociali quindi sono quesiti che riguardano questa panoramica di discipline leggermente diverse per alcuni versi simili al concorso per l'accesso alle lauree triennali ma in realtà poi integrate da discipline diverse che tipiche di di coloro che sono già gli esercenti una professione sanitaria.